per creare un carrello portafiori dovrete avere a disposizione carrello barattolo matita seghetto carta vetro ruote avvitatore e viti dopo esservi procurati un carrello segnare con il barattolo e la matita gli angoli questi ultimi verranno eliminati dalla base del carrello tagliate con il seghetto alternativo gli angoli carta vetrate con la carta vetro gli angoli per rimuovere eventuali strade residui di legno e levigarne la superficie con un metro misurate 3 centimetri da entrambi i bordi questa misura è necessaria per posizionare le ruote agli angoli della base del carrello avvitate con l'avvitatore le ruote utilizzando le viti che inserirete negli appositi fori grazie a tutti 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 per essere esposto ed accogliere i vostri fiori, dando così un tocco vivace alla vostra casa. Ripetiamo i materiali utilizzati. Carrello, barattolo, battita, seghetto, carta vetro, ruote, avvitatore e viti. Grazie a tutti.